mamma mia non ce la faccio non ce la faccio ci vuole un miracolo no non ce la faccio non ce la faccio sale sale che è successo tutto ok sto male sto male io fisicamente non ce la faccio più non mi posso più allenare ci vuole un miracolo c'ero io un rimedio per te devi 9 millimetri 9 mm ma questo mi sembra un proiettile però la voglio provare mamma mia mamma mia che è successo pure i pesi sono cagnata te l'avevo detto 9 mm energy drink ragazzi credetemi fa miracoli è buono sia per gli uomini e sia per le donne che si vogliono mettere in forza sei un palestrato vai a fatica mattina e non ce la fai chatti continuamente su facebook ma si chiudono gli occhi prova questa bevanda che fa miracoli energy drink 9 mm guagliù sta bevando è una pottangata parola di savio cavallo